Innanzitutto grazie a Giordano, amico Giordano e a CO4Life, grazie ovviamente all'onorevole Rizzetto e agli ospiti che hanno deciso di dedicare tempo per questa proposta, questa iniziativa. Come Dedalus siamo molto vicini a questa logica di proporre progettualità, collaborare con altre aziende, anche di diversi settori, per creare valore ed è uno dei forum anche in questa bellissima location più interessante. Giustamente siccome dicevi che non conosciamo le aziende, concedetemi 30 secondi per dire chi è Dedalus. Noi siamo un'azienda che facciamo software, siamo tra le aziende leader di mercato nel settore della sanità, abbiamo esperienza oltre 40 anni, nasciamo all'interno dell'ospedale, quindi abbiamo presenza molto forte nell'ambito cartelle cliniche, laboratori, pronto soccorso, alcuni numeri. Gestiamo il 70% dell'analisi del laboratorio in tutta Italia, circa il 30% degli accessi nel pronto soccorso, 40% della parte di cartella clinica, quindi abbiamo una grande esperienza e una grande presenza sul mercato. Ma noi abbiamo una visione più ampia di tutto il processo socio-sanitario. Una delle cose che stanno succedendo in questo momento col PNRR è, post-Covid, è il passaggio della medicina sempre più forte da dentro l'ospedale al territorio, quindi con tutta la creazione post decreto ministeriale 77, COT, ospedale di comunità, casa come luogo di pura, quindi per tutto quello che concerne l'ambito della telemedicina, telemonitoraggio, televisita, eccetera. Quindi il territorio è un'area molto importante che ci vede protagonisti ed è strategica per l'azienda e l'altra parte fondamentale, il problema che discutiamo quotidianamente sono le lunghe liste di attesa, è il problema principale che anche a livello politico viene sempre discusso, è legato alla prevenzione. Perché comunque la prevenzione è uno degli aumenti fondamentali per fare sì che noi come cittadini ritardiamo il momento in cui pesiamo sul sistema sanitario nazionale. E come Dedalus siamo molto presenti nell'area screening, nell'area vaccinazioni, ma lo spunto che volevamo dare oggi con questa iniziativa, questo progetto, è ragionare su quella che è una tecnologia che ormai è sdoganata e funziona bene nell'ambito medicale, ovvero il monitoraggio dei pazienti cronici a casa, portare questa logica di prevenzione nell'ambito del lavoro. Perché questo? Lo spunto nasce dal fatto molto semplice, ridurre le liste di attesa vuol dire ridurre la domanda e quindi far sì che ci siano meno persone che abbiano bisogno di cure. Inevitabilmente tutti noi con l'aumentare dell'età diventiamo dei cronici, l'Italia è la seconda nazione al mondo dopo il Giacone per longevità, le cure migliorano e quindi pesiamo di più sul sistema sanitario nazionale. E quindi è difficile ridurre le liste di attesa. La prevenzione diventa cruciale. Qual è il luogo in cui passiamo la maggior parte della nostra vita? Più anni e più tempo e in cui siamo più a rischio di ammalarci è il lavoro. Non parlo solo dei lavori ad alto rischio perché vi sono dei lavori a rischio, ma in generale comunque in tutta la nostra vita lavorativa abbiamo la necessità di comunque stare attenti come imprenditori, come aziende a far sì che i nostri impiegati, i nostri asset fondamentali, le persone non si ammalino. Lo spunto quindi del progetto che portiamo è utilizzare la tecnologia che noi utilizziamo già nell'ambito medicale nel ambito lavorativo, ovvero il monitoraggio delle persone negli ambiti di lavoro. In un ambito di monitoraggio continuo con sistemi wearable, IoT, multiparametrici, dispositivi medicali, quindi di alta fascia, con dei software di monitoraggio che ci danno degli allarmi quando le persone iniziano ad avere delle situazioni critiche, dei parametri vitali che iniziano ad avere degli scostamenti, lì c'è dell'artificial intelligence, dell'AI che inizia a capire che c'è qualcosa che non va bene prima che si verifichi un evento avverso. E chiaramente partendo da quella che è, diciamo come dicono in inglese, un po' un low hanging fruit, ovvero i luoghi di lavoro più critici, pensiamo ai lavori più faticosi, quando sono dentro un cantiere, alla guida di un mezzo e ho la responsabilità di persone, oltre che chiaramente mia come persona, ma magari trasporto persone, trasporto materiale per la mia azienda. Quando parliamo di prevenzione sul lavoro, spesso ne parliamo solo quando avvengono degli incidenti, o quando magari vi sono delle morti sul lavoro. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Ho fatto l'esempio dei trasporti, ormai i veicoli sono completamente monitorati, c'è elettronica ovunque, ci sono 200 airbag, sensori, ma il pilota, chi guida, è proprio il punto più debole. Quindi avere un qualcosa, un dispositivo, una centrale di monitoraggio che mi avverte prima che possa succedere qualcosa, è sicuramente qualcosa di grande stimolo. Questo solo per fare un esempio, perché ci sono chiaramente la tecnologia, hardware e software, permette anche di monitorare pazienti, pazienti scusate, monitorare impiegati che sono, non so, in cantieri. Quindi pensate all'analisi del rischio di chi va a lavorare in luoghi dove ci sono emissioni chimiche e sapere se c'è un disagio del paziente, del paziente, dirò sempre paziente, è deviazione professionale, dell'impiegato mentre sta lavorando, prima che succeda qualcosa. Avvertirlo, perché sul dispositivo ti avverte se c'è qualcosa che non va. Avvertire magari chi è intorno a me, chi è nel mio stesso turno, nella mia stessa area, che può darmi una mano. Queste sono cose che tecnologicamente possiamo fare tranquillamente oggi, però non vengono ancora usate su larga scala nelle aziende. Ci sono molte iniziative interessanti, molti piloti, ma in realtà non si vede ancora un utilizzo su larga scala di questo tipo di tecnologia, che è prevenzione e sicurezza allo stesso tempo. Poi citava l'onorevole, è cambiato il mondo del lavoro, c'è lo smart working, si lavora molto a distanza, quindi non pensiamo soltanto alle aree più critiche dal punto di vista della fatica del lavoro, dall'esposizione magari ad aree critiche, ma anche allo stress. Chi lavora in aree critiche, pensiamo a un medico, che può avere un calo di attenzione mentre fa una diagnosi. Assolutamente, bisogna capire se questa persona può avere un calo di attenzione, può in questo momento non sentirsi bene. Chi lavora, abbiamo tutti durante il Covid negli occhi, le persone che lavoravano, sono infermieri, medici, portantini, bareglieri, stressati dal lavoro infernale di quel periodo, ma la loro vita quotidiana comunque è quella. Quindi, quando parliamo anche di monitoraggio di aree critiche, parliamo di situazioni anche un pochettino più soft. O delle persone che lavorano da sole, a casa, il smart working, sapere se una persona sta bene o non sta bene, sono anche degli spunti interessanti. Quindi, si può passare a una prevenzione e una cura della salute del lavoratore a 360 gradi. E l'obiettivo di oggi, noi proponiamo come azienda la tecnologia, l'esperienza, hardware, piattaforme software, la gestione comunque di tutto il percorso e dei processi che stanno insieme alla medicina del lavoro, ampliandola con questa nuova tecnologia, e l'occasione di oggi è confrontarci con altre aziende, con altri CEO, per far sì che si possano lanciare osservatori, iniziative e progetti. Perché, decisamente, anche confrontandoci offline con gli ospiti prima, questo è un argomento caldo e di interesse di tutti, ma ancora le aziende non utilizzano questa tecnologia o non investono ancora pesantemente nell'area della prevenzione. E quindi bisogna parlare di incentivi, di legislazione, di normative, ovviamente di temi caldi come la privacy. Bisogna riuscire a capire qual è la linea di confine tra posso monitorare lo stato di salute di un impiegato per il suo benessere e non devo valicare quella che comunque è la sua privacy. Quindi ci sono anche degli elementi decisamente interessanti e di confronto. Quindi, direi nel pieno spirito di quelle che sono iniziative di CEO4Life, lascerei lo spazio ai nostri ospiti di confronto e, come sempre nello spirito, molto aperti, molto costruttivi. Sono qua per interagire. Grazie. Grazie a Dante e a Massimo Angileri di Daedalus.